Scegliete il vostro percorso, non rifiutate la verità e non bestemmiate lo Spirito Santo non siate ignoranti né arroganti obbedite alla guida dello Spirito Santo il ritorno di Gesù è una grande salvezza per quelli capaci di accettare la verità il ritorno di Gesù è una condanna per quelli incapaci di accettare la verità Brama a te e ricercate la verità è l'unica via di cui beneficerete coloro che la verità hanno udito eppure ad essa storcono il naso sono tutti così sciocchi e ignoranti il ritorno di Gesù è una grande salvezza per quelli capaci di accettare la verità il ritorno di Gesù è una condanna per quelli incapaci di accettare la verità di accettare la verità di accettare la verità di accettare la verità calpestate con cura il sentiero della fede non saltate a conclusioni affrettate non prendete alla leggera il vostro credere in Dio coloro che credono in Lui dovrebbero essere rispettosi ed umili quelli che hanno udito la verità eppure saltano a conclusioni o condanna ciò che è vero sono pieni di arrogan il ritorno di Gesù è una grande salvezza per quelli capaci di accettare la verità il ritorno di Gesù è una condanna per quelli incapaci di accettare la verità nessuno che crede in Gesù ha il diritto di viasimare o maledire di accettare la verità dovreste essere razionali ed accettare la verità il ritorno di Gesù è una grande salvezza per quelli capaci di accettare la verità di Gesù è una grande salvezza grazie a tutti